Quando si tratta di medicina di base, di medici di famiglia, la carenza dei pediatri si fa ancora più sentire, in modo particolare ovviamente nelle giovani famiglie. Marta Ruggeri, hai affrontato questo argomento in questi giorni in consiglio regionale. Quali sono state le tue osservazioni e quali sono state le risposte? Il problema è assolutamente generale perché riguarda tutta la regione, ma calandoci nella nostra città, che è quella di Fano, il distretto fanese prevede la presenza di 11 pediatri e purtroppo siamo sotto di due perché c'è stato un recentissimo pensionamento del dottor Tonelli e del dottor Bellagamba, che sono due colonne portanti della pediatria fanese e i genitori, i giovani genitori, si sono visti ricapitare una lettera con cui venivano informati che si sarebbero dovuti collegare al sito o recarsi negli uffici dell'AST per cambiare, per cercare un sostituto. Il problema è che con la carente programmazione che c'è stata negli anni passati non abbiamo un numero sufficiente di giovani specializzati che possano sostituire pensionamenti. Non nell'immediato, però prossimamente, nei prossimi mesi, andrà in pensione anche la dottoressa Dami, quindi si creerà un'altra voragine per i giovani assistiti. L'assessore Saltamartini ha dato una risposta che secondo me non è soddisfacente perché ha parlato di aumento del massimale di pazienti per ogni pediatra, però siamo già quasi al limite per tutti. E poi è stata fatta una selezione di emergenza, ma ci sarà come esito lo spostamento di pediatri dall'entroterra alla costa. Quindi pare che si sposterà da Fossombrone a un pediatra e forse un altro da Cagli. Ma venendo qui lasceranno scoperto un'altra zona della nostra provincia, quindi nell'immediato una soluzione praticabile purtroppo non c'è. Questo è un gravissimo problema. E' anche un altro problema quello invece del cambio del medico, cioè quando un medico va in pensione alla scelta di un altro medico crea dei problemi perché poi andare al poliambulatorio, fare l'appuntamento e fare l'attesa insomma non è piacevole. No, assolutamente non è piacevole. Abbiamo visto immagini e anche foto di lunghe code e questo è un disguido che dovrebbe essere sanato con un sito funzionante. Perché in effetti nelle lettere che arrivano a casa c'è l'indicazione della possibilità di effettuare questo cambio tramite sito, ma per lungo tempo il sito non è stato funzionante e anche su questo punto avevo fatto un paio di domande all'assessore ma non ho avuto risposte.